Ed ecco a tutti le priorità del vice premier Matteo Salvini, analizziamo! Scuola dell'infanzia, le lamentele di due genitori, grembiuli distinti tra blu e rosa. Scuola dell'infanzia, le lamentele di due genitori, grembiuli distinti tra blu e rosa. Oh mio Dio, il colore unico non esiste! Perché per il destroide medio, i grembiuli devono essere blu per i maschietti e rosa per le femminucce. Fine! Un giallo? Un nero? Un verde? Tutti blu? Come per esempio indossavo io? No! Non si fa! Blu e rosa! E la più grande argomentazione è... E ma così si distinguono! Così sappiamo quando quello è un maschietto e quello è una femminuccia. Sì, questa è seriamente una delle più grandi argomentazioni sotto a questo post, da parte di qualche leghista ovviamente. Poster di Gesù e crocifissi, sempre con questa storia, sempre con questa imposizione. Non ci sta bene? Eh no! Sei nel torto, sei un cattivo cristiano, perché l'Italia, sì, è un paese laico, ma per alcuni è ancora cristiano. A cazzo di... È una maestra per 25 bambini. Io sinceramente la lamentela, in questa lamentela, non la capisco. Una maestra con 25 bambini è un problema in base a quanto questi bambini abbiano magari... Siano iperattivi, le cose da fare. È ovvio che una maestra magari per 10-15 bambini è molto più produttiva. È organizzata molto meglio. Che cazzo di lamentela è? Nel senso, seriamente un genitore non può lamentarsi se una maestra deve gestire 30 bambini? Ma te? Ma con le tue argomentazioni dove sono? Ma leggiamo i commenti! Finalmente la normalità! Ottimo! La famosa normalità! Eh? Questo è un po' lungo, ma ci sforziamo. Che cambino scuola! Così. La lamentela... La disobbedienza non esiste. Io sono per la divisa scolastica. Analizziamo, leggiamo. Chi non ha la possibilità di avere abiti firmati... Almeno non si sente escluso. Mamma mia! Una delle argomentazioni più insensate sulla divisa. Anzi, sull'obbligo di divisa. Spoiler! Imporre una divisa, oltre ad essere un po' obsoleto e di nicchia, è soprattutto qualcosa che non risolve la povertà o la discriminazione, visto che dovresti fare della sana educazione e prevenzione. nello spiegare ad un bambino perché non è mai giusto discriminare o attaccare qualcuno, se è povero, se è bianco, nero, omosessuale, etero e così via. Ma, giustamente, imponiamo la divisa che risolve tutti i problemi. Lo fa? Ovviamente no, ma... Ci pensa... Crackers? Crackers? Vabbè. E in più si salvano parecchi capi. E? E ripeto, non tutti hanno soldi da buttare per comprare abiti a go-go. E certo. Per quanto riguarda il croce fisso, possono ignorarlo. Vi è sempre stata e non ha mai mangiato chi era contrario. C'è qualche dato? All'epoca mia... In classe vi erano figli di atei e di comunisti, quelli veri. Ma nessun genitore si è mai lamentato. E nell'ora di religione uscivano a giocare in palestra. O se volevano rimanevano a disegnare. Sono arrivati in età adulta, ugualmente. Che argomentazione... Incredibile. Ma si continua! Si era raggiunto un punto di non ritorno. No, no, no. E tornare un po' all'ordine che diventa anche mentale non può far che bene. Certo, Totò. Certo. Due genitori su 25, gli altri 23 contano meno? Beh, oddio, potrebbe anche essere il contrario. E due genitori contano oppure contano la maggioranza? Ma vabbè. Gente mediocre e squallida. Devono trovare problemi dovunque. È una lamentela. Tra l'altro una è giustissima, proprio inattaccabile. Ma vabbè. Decidete voi. Decide la destra. Decide il bigotto. Decide quello che vuole imporre il colore su un grembiule. Decide lui. Dai. La lamentela non esiste. Che ci vuole fare? La gente sta male. Non dirlo a me. Pensa a un vice premier che parla di grembiuli. Un paese proprio alla deriva, eh? Ma questi genitori hanno tutto questo tempo da perdere? Non devono lavorare? È la stessa domanda che mi faccio da anni leggendo i post di Matteo Salvini. Penso un po'. Se protestano, sicuramente non sono italiani. Era ora si tornasse un po' alla normalità. Non ho capito, scusa. La lamentela non può essere italiana. Pur essendo in uno stato laico. Pur essendo persone intelligenti che comprendono come la divisione di colori non serve a nulla. Va bene. Meno male che esistono ancora maestre con il cervello indipendente. Certo. Concordo in pieno. Si ritorna alla normalità di un tempo. Sempre con questa normalità. Queste persone credono davvero che sia anormale avere una discussione sui grembiuli? Una maestra che gestisca meno di 25 persone? O semplicemente non mettere un crucifisso in una scuola in un paese laico? Assurdo. Chissà perché invece se mettiamo un simbolo di un'altra religione, puttiferio. Vabbè, chiudiamo questo video con il grembiule lo abbiamo avuto anche noi. E anche il croce fisso. E siamo cresciuti benissimo. Sotto ad un posto della Lega.